Alvia oggi il secondo giorno dell'edizione 2019 di Lerici Legge il Mare, non solo presentazione di libri con grandi scrittori italiani e stranieri ma anche mostre fotografiche. Oggi il secondo giorno della nona edizione di Lerici Legge il Mare e ancora grandi appuntamenti, presentazione di libri e anche inaugurazione di mostre. Sì, abbiamo appena fatto la premiazione del concorso fotografico, una mostra importante insieme all'Avis di Lerici e società marittima, poi le altre mostre sono molto frequentate. Sono andati benissimo gli appuntamenti di ieri che c'erano sia a Bion Larson, che è l'ospite d'onore, che è la battaglia della Meloria. Ora ci sono altre presentazioni che continueranno tutto il giorno, l'angolo dei bambini è molto importante, molto sentito perché ci saranno le fiabe, ci sono la marina resca e oggi pomeriggio tutto il giorno con le presentazioni. Con il Clou stasera alle 18 con Geraldo Pizzo e alle 21.15 con Pietro Bartolo e Vittorio Alessandro che parleranno della situazione nel canale di Sicilia. Una bella manifestazione e quindi invito ancora domani a venire. Un grande scrittore, un appassionato velista dalla Svezia qui all'Arici per la seconda volta, all'Arici legge il mare, perché? Perché il posto è bello, l'accoglienza anche, mi sono ritrovato bene, preferisco infatti i piccoli festival di qualità piuttosto che i grandi eventi dove non c'è tempo per parlare con i lettori e il pubblico. Un grande autore italiano, del territorio, ma il mare perché affascina così tanto gli artisti, gli scrittori? Perché il mare è una superficie infinita, non solo una superficie, il mare ha anche una profondità, un abisso e degli abissi ne hanno parlato tanti a partire da Baudelaire. Quindi c'è sempre un qualcosa da esplorare, un qualcosa di nuovo, un qualcosa che non sapremo mai. Perché invitare le persone a venire a questa manifestazione in cui si parla di mare e di letteratura? Perché è difficile trovare un posto che sia così un luogo dell'anima come l'Arici che riesca a sposare tranquillamente il mare e la letteratura, renderlo piacevole, fruibile, interessante. Parlavamo di letteratura, oggi la presentazione del suo libro, ma c'è anche una chicca in più legata alla letteratura al mare, quale? Allora, io oggi, dopo aver fatto presentare e lasciato che Björ Larsson, è un grande onore per me, presenti il mio libro, darò l'annuncio della prossima uscita, tra qualche mese se non hanno, del seguito di Baciccio Adottin, che sarà una graphic novel e le prime dieci tavole verranno presentate all'Isola del Tino in occasione di San Venerio. Grazie.